andiamo nell'area vicendina margraf spa abbiamo la responsabile marketing che alice che il capello vediamo se eccola qui buongiorno alice buongiorno 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 a tutti grazie a lei della partecipazione allora anche qui siamo nella nell'area del marmo di lavorazioni di altissima qualità e allora anche qui le chiederei velocemente di raccontarci in due parole chi è margraf che cosa fa il mercato insomma che poi e poi sentiamo cosa avete quella il vostro percorso sugli archivi di presa allora margraf è un'azienda storica fondata nel 1906 che è un'azienda che quest'anno ha compiuto 114 anni è un'azienda che lavora il marmo a 360 gradi quindi si occupa dell'estrazione del marmo in cava alla trasformazione in lastra al prodotto finito su misura noi lavoriamo per il 75 per cento all'estero siamo un'azienda leader nel settore nel senso che abbiamo sviluppato all'interno macchinari di alta produzione di alta gamma specifici appunto nella lavorazione del marmo e il nostro nome è veramente nel settore è un marchio ma è un brand riconosciuto da tanti anni la nostra azienda ha un archivio storico essendo appunto stata fondata nel 1906 un archivio storico molto importante l'azienda nel 35 era stata praticamente presa in gestione della famiglia marzotto e la famiglia marzotto ha segnato un processo diciamo di trasferimento dei dati e diciamo di memoria dei documenti importanti importanti come l'ha fatto appunto nelle altre aziende che 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 gestiva che portava avanti quindi questo patrimonio è stato fortemente voluto dai conti marzotto in particolare dal conte paolo marzotto e diciamo che noi nel 2006 2007 abbiamo cercato di vedere capire cosa c'era all'interno di questo archivio quindi già allora ci siamo affidati all'università di padova abbiamo preso attraverso il professor fontana stagisti dell'università e abbiamo cercato di mappare l'archivio che avevamo il lavoro è stato molto difficile e molto lungo ma siamo arrivati diciamo a un primo step finito attorno al 2008 è subentrata poi l'esigenza di valorizzare questo archivio quindi l'abbiamo valorizzato inserendolo diciamo in una stanza in un cofanetto studiato appositamente cercando comunque di mantenere la stessa collocazione di frazioni ma dovremmo valorizzarlo anche per cercare di rendere il nostro nostro know how le nostre le nostre le nostre le nostre immagine diciamo di trasferirla anche al territorio vicentino veneto ma non solo ci serviva appunto una valorizzazione per fare un'operazione di branding e quindi abbiamo ci siamo affidati a una storica dell'università di udine specializzata appunto in archivi storici e abbiamo cercato di assieme a lei di creare un percorso di valorizzazione ci siamo accorti che all'interno dell'archivio c'era del materiale importante la relativa relativo a una committenza di una religione molto ricca che è la religione bari una religione persiana e da lì abbiamo cercato di valorizzare questo materiale per poi far vedere il tutto all'interno di una mostra di una mostra che è stata fatta nel 2017 presso il museo pallade di licenza sono stati coinvolti in questa mostra gli architetti che avevano commissionato grandi opere tra cui l'architetto amana che è un architetto canadese che aveva realizzato il tempio di haifa in israele con margraf nel 77 e l'architetto saba che invece aveva realizzato nell'84 il fiore di lotto rivestito completamente in marmo agli deli in india da qui si è aperto un mondo nel senso che comunque margraf ha capito l'importanza di questo patrimonio storico e della valorizzazione dello stesso si è aperto un mondo anche perché diciamo questo processo di valorizzazione ci è servito anche per riagganciare la committenza bai quindi diciamo che il processo di valorizzazione di un archivio storico diventa fondamentale per un'azienda anche dal punto di vista diciamo della del lavoro del lavoro stesso insomma non è solo un'operazione culturale diventa anche un'operazione di business a mio giudizio e ve lo posso testimoniare quindi da lì poi adesso l'anno scorso è stata fatta una valutazione dal dottor Macri per un ulteriore intervento diciamo di digitalizzazione totale dell'archivio perché l'archivio diciamo è in parte digitalizzato ma il processo di digitalizzazione è un processo molto molto lungo e che che necessita ovviamente anche personale personale specializzato e e quindi c'è stata una è stata fatta una valutazione della del lavoro e adesso dobbiamo pensare appunto come procedere per per finirlo insomma per per completare pensate che il nostro archivio storico è stato valorizzato attorno ai 13 milioni di euro quindi una valorizzazione molto importante una valorizzazione fatta dallo stesso dottor Macri quindi questo per dire che molte volte l'imprenditoria veneta purtroppo ha pensato che il patrimonio culturale di un'azienda non fosse importante io vi posso assicurare che quando ho visto per la prima volta il nostro archivio era veramente abbandonato e quindi diciamo è importante però per un'azienda andare a scoprire la propria storia e valorizzarla il processo di valorizzazione è fondamentale per un'operazione anche di branding insomma una bellissima storia anche agganciata alla alla religione avete i committenti religiosi sostanzialmente siete riusciti rivalorizzando la vostra cosa ad aprirvi anche a un processo di ulteriore processo di internazionalizzazione che è una cosa davvero incredibile poi l'altra cosa che mi sembra di dover sottolineare è il fatto insomma che c'era già una una consuetudine storica ad avere un archivio intanto che arriva dai mazzotto c'era addirittura la l'idea appunto di fare questa avete avuto ricercatori dentro in azienda per poter catalogare questo vostro archivio siete arrivati a fare la mostra e quindi questa sensibilità verso questa tipologia di questa materia sostanzialmente è sempre evidentemente stata presente nell'azienda però il fatto di averla in qualche modo rinvigorita in qualche modo di averci investito sopra sta portando ulteriori frutti ulteriori risultati che mi sembra molto interessante e poi lei ha detto una cosa ha detto un numero che mi ha che mi ha che mi ha molto colpito nel senso che qui insomma si parla di mobilizzazioni materiali quindi io posso mettere a bilancio sostanzialmente un valore un numero che che è che è dato dalla mia storia dalla mia dal mio passato da tutto quello che insomma non mi sembra una cosa onestamente da poco però è un altro elemento che lei ha citato e che effettivamente un altro elemento su cui penso che anche le riflessioni di oggi le riflessioni che anche anche di coloro che sono in questo momento collegati penso che dovrebbero andare perché perché davvero è un elemento di grandissimo interesse si può aggiungere solo due due spunti no che appunto in magra ci conosciamo da tanto tempo e ho avuto anche modo di visitare l'azienda e la mostra allora quello che mi ha colpito moltissimo no e che forse è stato detto di un po di striscia no e che però secondo me è una capacità dell'azienda poi incredibile è proprio quella di lavorare all'interno diciamo delle relazioni con non solo con gli architetti ma anche con gli artisti sappiamo che gli artisti sono dei tipi strani no e quindi riuscire poi a coniugare no la capacità di lavorare a una cosa come il marmo no per aditarla a quelli che poi sono non volere da parte dell'arte degli architetti questo è un sapere diciamo pazzesco l'altra cosa che che mi ha colpito molto di magra e che sta dietro nostra nella fabbrica nel senso che ho avuto modo anche di visitare la fabbrica è stata una cosa incredibile nel senso che non si parlava ancora l'industria 4.0 ma quando sono andata a visitare la fabbrica ho visto una roba una roba mostruosa era già un robot una cosa che lavorava a cinque assi con cinque assi da io non sono una cosa e con un'estrema anche ingenuità no mi ha detto guarda abbiamo comprato questa cosa perché riesce a con un getto d'acqua a bucare mezzo metro di marmo no senza fare nessuna nessuna imperfezione no ecco questa cosa no di mettere insieme la tecnologia l'investimento della tecnologia e il saper fare che poi si traduce in quelle opere d'arte secondo me è stato anche raccontato con estrema ingenuità e però è un fattore no questo di coniugare tecnologia e poi prodotto di tipo architettonico e artistico che è fantastico beh sì questo quando si lavora su misura quando si lavora con architetti si deve essere sempre più flessibili la tecnologia è fondamentale cito i buy perché mi sto collegando a questo a questa valorizzazione dell'archivio ma per loro sono stati fatti di macchinari appositi per fare una serie di rivestimenti e quindi la nostra flessibilità è quella rivolta diciamo ogni volta ad ogni progetto che facciamo quindi diciamo che ogni nostro progetto diventa parte dell'archivio storico Margraf e questo lo stiamo facendo nel senso l'attività di comunicazione che viene fatta su ogni progetto diventa appunto un tassello che poi diventerà parte fondamentale dell'archivio stesso insomma la comunicazione va di pari passo diciamo all'idea di volere archiviare e valorizzare il nostro patrimonio storico anche questa grazie mille dottoressa grazie di questa bella storia altra bella storia grazie a voi alla prossima grazie arrivederci grazie